Può succedere a tutti, nessuno escluso. Quando il nemico è nella tua testa, è difficile vincere la battaglia da soli. Paura, rabbia, solitudine e vergogna diventano delle fedeli compagne e tutto intorno sembra crollare. Poi finalmente è un incontro. Umano e autentico, fatto di ascolto ed empatia. Una relazione dove le parole e quelle giuste possono accendere la speranza, darti sostegno e infonderti la fiducia verso chi ti aiuterà e verso te stesso. Diventi consapevole che ogni giorno sarà importante per intraprendere nuovi percorsi. Facendo un passo alla volta, senza fretta, verso la rinascita. Pian piano, nel fare troverai la motivazione. Crescerà la tua autostima, che ti spingerà ad insistere, a non mollare. A raggiungere i tuoi obiettivi, i tuoi desideri. Ed ecco che allora arriverà il cambiamento. Che ti renderà diverso da quello che eri e più forte per il domani. Perché finalmente avrai imparato ad accettare che sei fatto di luci e di ombre. Grazie. 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 Grazie.